Allora, il laboratorio di filosofia politica di oggi si occuperà di un vero e proprio gigante dell'umanesimo, uno dei pensatori a mio avviso più lungimiranti della nostra Europa. Oggi ci occuperemo di Erasmo da Rotterdam. Non vediamo l'elogio della follia a cui dedicherò poi più avanti. Un'altra lezione, ma oggi ci occuperemo del lamento della pace, un'opera che Erasmo da Rotterdam scrive nel 1517, un'opera più che mai profetica, direi, nel corso della storia. Pensate alle guerre che abbiamo alle spalle nel Novecento, le guerre ancora oggi combattute, una opera profetica, però in realtà un'opera figlia proprio dei tempi in cui vive Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam vive i tempi duri, lacerati delle guerre di religione, vive lo scisma luterano e con Lutero avrà una durissima polemica che la si può poi riassumere nello scontro tra il de libero arbitrio e il de servo arbitrio. Erasmo da Rotterdam è un sostenitore del libero arbitrio, cioè gli uomini attraverso il libero arbitrio possono avvicinarsi al bene, a Dio e nelle mani dell'uomo la scelta del bene, la scelta di Dio. Invece Lutero sarà un sostenitore del servo arbitrio, cioè l'uomo deve vivere chiaramente in Dio ma è Dio che sceglie l'uomo, non si conquista la beatitudine o la salvezza attraverso le buone azioni. Dunque Lutero e Erasmo entrano già in durissimo conflitto su questo tema, il tema del libero arbitrio. Ma poi ci sarà un altro grande scontro tra Lutero ed Erasmo, proprio lo scontro intorno alla cristianità, perché Erasmo che è un riformatore vuole la riforma della cristianità ma non vuole la scissione. Erasmo pensa che da dentro l'unità della cristianità riformata ci possa essere un continente di pace, un continente in equilibrio. Invece lo scisma religioso avrebbe portato scontri, conflitti. Dunque sia alla riforma della Chiesa ma non allo scisma, non alla scissione. Invece Lutero procederà dritto verso lo scisma, verso la scissione che produrrà chiaramente il fermento di borghesi, di contadini, il fermento teologico, il fermento di nobili, di cavalieri, porterà di fatto alla nascita di un mondo tedesco nuovo, perché la riforma luterana diventerà poi egevoli in Germania, però porterà anche tante guerre. Ovviamente questa è una scissione, un scisma che genererà guerra. Dunque nell'Europa delle guerre di religione, nell'Europa anche delle guerre tra re, papi, nelle guerre dunque politiche, nelle guerre religiose nitida si leva la voce di condanna delle guerre di Erasmo da Rotterdam. E il nostro laboratorio di politica non può che non passare che da Erasmo da Rotterdam. Perché? Perché se Machiavelli ci ha detto che la guerra è una questione politica, il principe la deve sempre preparare, deve essere pronto a combattere la guerra. Il buon politico è colui che è forte come un leone, ma astuto come una volpe, perché la forza senza astuzia è nulla, ma la guerra è un fatto politico e va preparata, va preparata come deterrente, va preparata addirittura per essere pronti ad attaccare prima di essere attaccati. Se dunque c'è una forte e robusta teoria della guerra in Machiavelli come elemento politico, ebbene in Erasmo da Rotterdam la guerra è vista come la morte della politica, come il polemus, la guerra tanto esaltata da Eraclito, il padre di tutte le cose, ma Eraclito intende il divenire che fiore di conflitto tra gli opposti, dove c'è polemus, ci dirà invece Erasmo da Rotterdam, non c'è più polis, non c'è più la comunità, non c'è più la politica. Cosa fa la guerra? La guerra distrugge la politica, la guerra distrugge la comunità politica, la guerra distrugge la possibilità di vivere insieme, ragazzi e ragazzi. Pertanto in Erasmo da Rotterdam la critica alla guerra diventa proprio una critica alla politica che si suicida andando alla guerra. Il principe che va alla guerra, il re che va alla guerra, il duca, il conte, il vescovo che sceglie la guerra, il papa che medice la guerra. Tutti questi soggetti abdicano alla politica, rinunciano alla politica perché si gettano nelle mani appunto di una forza distrugge la guerra. È chiaro, l'uomo è nato da Dio, Erasmo, no? E la natura dell'uomo è una natura pacifica, già delle tesi che vi lancio lì per poi la vostra discussione in classe. Per Erasmo da Rotterdam l'uomo esce dalle mani di Dio pacifico, ha una natura buona, ma poi alcuni uomini, anche qua, alcuni uomini passano dal cacciare per sopravvivere al cacciare per accumulare e dunque l'abitudine alla caccia, l'abitudine alla guerra contro gli animali diventerà l'elemento per guerreggiare tra gli uomini, per forretare la guerra tra gli uomini. Dunque la caccia per Erasmo da Rotterdam è un elemento che rompe, bellissimo questo è un argomento oggi per i vegetariani o per gli anticacciatori, la caccia è un elemento di violenza che fa saltare la bontà umana, cioè gli uomini si abitueranno, la violenza se diventa un'abitudine diventerà appunto una scelta rispetto alla politica. È chiaro, la caccia è l'inizio di un'abitudine violenta che gli uomini trasleranno nella vita poi politica uccidendo la politica stessa. L'uomo naturalmente era buono, unindo le mite, ma poi passando a delle pratiche di caccia ha cominciato ad abituarsi ad indossare dunque un abito violento, ha cominciato a fare violenza verso gli animali ed alcuni uomini sono passati, avendo questa violenza, ad essere violenti a uccidere altri uomini e dunque dalla caccia alla guerra l'uomo ha un po' perso quella indole, la macchiata e la guerra è il trionfo della logica violenta della caccia, è una caccia in grande la guerra, è per sopraffazione che si fa la guerra, è per ampliare il territorio, per avere uno sbocco sul mare, per avere un fiume, per avere un monte, per avere delle miniere, è per l'eredità al trono, è per cacciare un altro regnante, è per invadere, per espandersi, dunque una grande caccia, dalla caccia alla guerra così è iniziata la violenza dell'uomo e così l'uomo però è arrivato a uccidersi e in guerra muoiono i più poveri, in guerra muoiono i più deboli innanzitutto, la guerra è un atto violento innanzitutto contro le persone più povere, contro le donne, contro i bambini, in guerra soffrono i contadini che hanno i campi bruciati, i raccolti distrutti, in guerra muoiono i ragazzi semplici, i figli contadini che vengono mandati con una picca, con un archibugio, con una lancia a morire, è chiaro, vengono mandati in prima linea, quando scoppiano le guerre, le guerre di massa che nel 500 e nel 600 dilagheranno in tutta Europa, a morire sono innanzitutto le masse di persone semplici, le persone comuni e dirà Erasmo da Rotterdam, le guerre vengono decise da pochi, da principi, da duchi, da papi, ma cosa accade? Accade che però combatterle siano i più, dunque la guerra è un'aberrazione della politica, pochi litigano, i pochi sono gelosi, invidiosi, i pochi hanno brama, desiderio di brama, desiderano potere, desiderano gloria, ma chi mandano alla guerra? Chi più? Allora i più, i contadini che partono e combattono per Carlo V, per Solimano il Magnifico, che combattono appunto per il Papa, che combattono appunto per Filippo II, che combattono per gli sforzi, che combattono per, andiamo avanti primo guerra mondiale, possiamo portare il discorso che combattono per l'impero Sburgo, quello italiano, per la Germania di Guilamo II, per la Francia e la Terza Repubblica, o oggi appunto i ragazzi che esaltati dal potere politico vengono mandati a combattere per però scelte politiche, per decisioni politiche che non hanno preso ma che subiscono. Certo in democrazia o nelle città di massa come le nostre, non tutte le città di massa sono democrazie, sicuramente le città di massa, ebbene nelle nostre città di massa, che sia un democrazia o dittatura sempre di massa, il governante deve convincere, deve fare propaganda per mandare i ragazzi in guerra, i soldati o le soldatesse, visto che ce ne restano anche femminili in molti paesi del mondo. All'epoca questa propaganda era minore perché ti arrivava l'ordine dall'alto e il sistema coercitivo, l'obbligo per il tuo re era di fatto da eseguire immediatamente. Ma, dice Erasmo da Rotterdam, pochi decidono, molti combattono, pochi decidono molti uomini. La guerra dunque deve essere avversata, avversata dalle persone, devono capire che in guerra perdono tutto, pochi ottengono dei vantaggi, molti in guerra ottengono invece c'è dolore, morte e patimento. E spesso, non solo tra i vinti c'è dolore e morte, ma anche tra i vincitori. E tra i vincitori e i vinti, a essere chiaramente più danneggiati, più poveri, più feriti, più nel dolore, sono tendenzialmente le persone più umili. Bertolt Brecht recupera anche un po' visione in sue celebre poesie, lo drammaturgo, poeta, filosofo, politico, suo drammaturgo, grande autore di teatro del Novecento, recupera questa tesi, che alla fine, tra il campo dei vincitori e il campo dei vinti, a farne le spese, a soffrire sono le persone più semplici, le persone più umili, le persone più povere. Va bene? Nel Lamento della Pace, che vi dicevo, adesso in ultimi minuti andiamo a leggere in alcuni stratti, emerge anche la grande capacità artistica, letteraria di Erasmo da Rotterdam. Cosa fa Erasmo? Personifica la pace, fa parlare la pace, che bello. La pace si lamenta, il Lamento della Pace. C'è anche un'altra opera, La Difesa della Pace, scrive diverse opere dedicate alla pace, ma ho scelto di leggere e di parlare del Lamento in questo laboratorio proprio perché c'è questa anche idea narrativa, stilistica, di personificare la pace. La pace parla, la pace si lamenta. Pochi anni fa, quando il mondo, cioè tra le mie spalle, era travolto a prendere le armi da non so quale peste esiziale, alcuni araldi del Vangelo, frati minori e predicatori del Sacro Pulpito, davano fiata ai corni di guerra e ancor più infervoravano chi già propendeva per quella follia. L'incipit è un chiaro atto di accusa da parte di un cristiano verso i cristiani che elogiano la guerra, gli araldi del Vangelo. Ok? Siamo qua, vedete? È un po' piccolino, vero? Amplio un po'. Ok. Gli araldi del Vangelo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono predicatori che esaltano la guerra, che benedicono la morte, dunque, perché la guerra è morte, che benedicono la guerra, che esaltano la guerra. Non c'è nulla. Sono un po' redorissime, perché le guerre sono combattute tra cristiani. Non c'è nulla di più anticristiano dell'esaltare e volere la guerra. Dunque, lui, che è un profondo cristiano, dice che la cristianità non è guerra. Ripeto, all'epoca non è la posizione predominante e prevalente nel mondo cristiano, perché la guerra giusta, la guerra santa, la guerra sacra, la guerra per la fede è legittimata e giustificata. Anche Erasmo dice che se sei attaccato dovrai difenderti, chiaramente, ma la maggior parte delle guerre si chiamano guerre di difesa, ma sono guerre d'attacco. Tutti quelli che sono in guerra ti diranno che si difendono. Prendete questa lezione di oggi, portatela all'attualità. Erdogan sta attaccando terroristi, è chiaro. E così valeva per altri anni prima che hanno detto che noi facevamo la guerra per difenderci, perché vogliono produrre delle armi. Ah, ci attaccheranno. Ah, lì ci sono dei responsabili. Tutti quelli che fanno delle guerre, è chiaro, le fanno per difesa. Addirittura il nazismo, che è una guerra di offesa, le nese poi conquiste l'Europa, dirà noi siamo accerchiati dall'Unione Sovietica, dalla Francia e l'Inghilterra. Siamo lì, chiusi nel cuore dell'Europa, sacrificati in poche terre rispetto alla tradizione della cultura del popolo tedesco, rispetto al sangue, della nostra storia e a noi spetta di più. Dobbiamo dunque difenderci dalla tenaglia dentro cui ci chiudono noi sovietici a est e le potenze occidentali. Dunque, la guerra per eccellenza di invasione e di conquista è di difesa. Addirittura i romani, quando attaccavano e spadevano i confini, dicevano che andavano a conquistare i rei limitrofi che avrebbero minacciato l'impero romano. Dunque, la guerra di difesa è quella quasi sempre spacciata e presentata. E' chiaro? Non c'è nulla più di anticristiano. La guerra è una follia. Guardate le parole. La guerra è una follia. In Inghilterra cosa facevano questi uomini di chiesa? Che sono cristiani. Non sono ancora anglicani, le scrive nel 517, dunque Enrico VIII non ha ancora compiuto lo scisma, il matrimonio con Anna Bolena. Dice in Inghilterra aizzavano contro i francesi e in Francia contro gli inglesi. Qua ragazzi, quando l'altro giorno abbiamo fatto la battuta, era con voi che parlavamo di fare il segno della croce prima di entrare in campo. Era con voi. E abbiamo detto una ritualità, non facciamo polemiche oggi. E' chiaro, un giocatore da Juve fa il segno della croce o dell'Inter e facciamo la battuta, che è una battuta logico-razionale. Ma a Dio a un certo punto cosa dovrà fare? Dovrà fare per quello della Juve o per quello dell'Inter? E' chiaro che è in parte una ritualità. Speriamo che vada bene la partita. vuol dire tutto quello. Ma invece qua no. Qua preti o arraldi del Vangelo benedivano le armi inglesi per andare contro i francesi e dall'altra parte preti, ok, uomini del Vangelo di chiesa, benedivano le armi francesi. Ma cos'è? Dio in questa guerra. Tutti facevano la guerra in nome di Dio o con l'abitudine di Dio. Ma Dio? Da che parte sta? Dio sta dalla parte della pace. Secondo Erasmo da Rotterra. Se ci pensate una follia, no? Far intervenire Dio nella benedizione, nella esaltazione della guerra contro altri che allo stesso tempo fanno intervenire Dio nella benedizione e nella esaltazione della guerra. Ha una parola questa vicenda. Follia. alla pace, stupendo, non incitava nessuno, tranne uno o due a cui costò quasi la vita l'aver soltanto pronunciato il mio nome. Io non so, sarà che ormai mi emoziono con poco. Ragazzi, ma cosa vi sta dicendo? La pace parla e dice quando c'è la guerra pochi parlano il mio nome. Pochi esaltano il mio nome. La pace è lasciata solo. Io ho un'immagine struggente. Vorrei pensare alla prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, no? O le grandi guerre. Tutti, no? Dalle cattedre, sui giornali. La guerra si vince in fretta, è necessario, vinciamo territorio, sarà breve, successo. E chi parla di pace? Quando scoprano le guerre spesso gli uomini di pace sono isolati, se non poi per essere ascoltati dopo. a forze. E qui la pace dice perché nessuno prende a cuore la mia causa. Va bene? Prelati, consacrati, scorrazzavano un po' ovunque, dimentichi della loro dignità e dei loro voti, e inasprivono con la loro opera il morbo universale, istigando ora il pontefice romano Giulio, il papa, o i monarchi ad affrontare la guerra, quasi che non fossero già abbastanza folli per loro conto. Già il papa Giulio è folle, lui. Già lo è il re di Francia. E questi uomini di chiesa, anziché dissuaderli dal fare la guerra, gli aizzavano ancora di più. È sempre attuale. I consiglieri politici. Un buon consigliere deve consigliarti la pace o di evitare il più possibile la guerra perché porta a morte istruzione e povertà, non esaltare la gloria e il potere. Invece cosa fanno gli uomini cristiani? Tradiscono il cristianesmo ed esaltano questo morbo universale. Non è che troverete nella storia della filosofia molti autori che hanno definito di così forti di guerra. Guerra. A. Follia. B. Morbo universale, cioè una epidemia. A tal fine, solo da noi distorte, con sommo impudenza, le leggi dei padri delle parole della Sacra Scrittura. Immenso. Chiaramente ci sono cristiani che la pensano all'opposto. Lui dice questi uomini distorgono con sommo impudenza le parole delle Sacre Scritture. In realtà voi lo sapete, qua è una forzatura quella che fa Erasmo, nel senso che nel Vangelo si parla di pace, si parla addirittura del porgi l'altra guancia, che sarebbe una forma di pacifismo radicale. Ma la Bibbia è guerra molte volte, è un Dio di guerra, è un Dio di guerra a fianco agli ebrei, è un Dio di guerra perché punisce i peccatori, è un Dio di guerra anche, è un Dio di violenza, di punizione. Allora, tra le Sacre Scritture c'è anche la guerra, ci sono pagine di guerra. Lui probabilmente sta più pensando al Vangelo, qua la pace sta citando il Vangelo, che è chiaramente un testo dove la pace, il perdono, cose che molti cristiani dovrebbero oggi rileggere, no? Se l'ha affamato bussa la mia porta, mi sembra che giudica di aprire quella porta e non di sbatterla in faccia. Che chi è peccato scagli la prima pietra di fronte alla prostituta, non dice facciamo le retate, arrestiamo, picchiamo le prostitute, mi sembra che dica lanci la prima pietra, chi è senza peccato. Cioè lui va a recuperare chiaramente quei passaggi profondi di pace e di umanità del Vangelo. Sappiate che nelle Sacre Scritture c'è anche un po' il Dio armato, c'è il Dio che prende la lancia e combatte. Per l'armo da Rotterdam la vera cristianità consiste nella pace, la guerra è un morbo. Guardate qua, ormai i sacerdoti seguono perfino le armate, perché sono dei sacerdoti che vanno in guerra, che magari le notti prime della battaglia, nell'accampamento, benedicono o dicono messa. Dunque va a vescovi che comandano, perché ci sono in alcuni eserciti anche uomini di chiesa che hanno preso i voti, che affiancano i generali. Abbandonano le chiese per occuparsi degli affari di Bellona, dunque degli affari di re, degli affari di principe, degli affari politici, degli affari di guerra. Ormai la guerra produce addirittura sacerdoti, prelati cardinali ai quali il titolo di legato al campo sembra onorifico e Dio di successore degli apostoli. Alcuni prelati sono talmente ormai legati al campo di battaglia che il loro essere prechi di guerra è per loro un vanto, dovrebbero vergognarsi. Sono in chiusura, non posso che non citarvi un immenso uomo di cultura, un pedagogista italiano, un prete, un parroco che è Don Milani, che alcuni di voi avranno conosciuto perché una maestra o un insegnante alle medie, un maestro elementare o un insegnante alle medie che vi abbia citato Don Milani non posso immaginare che non ci sia stato. Don Milani, l'autore della celeberrima lettera a una professoressa in cui accusa la scuola italiana di essere una scuola di fatto che reitera le differenze. Cioè i figli dei ricchi vanno alle scuole dei licei, escono che sono pronti a fare i mestieri dei padri, i figli dei poveri vanno a scuole professionali, se vanno, ed escono e continuano a fare i lavori umili dei padri. Cioè a scuola il figlio del muratore esce che sa più o meno tante parole quanto se lo fa muratore, o ne sa ben poco, a scuola il figlio del ragioniere, dell'ingegnere, del medico, acquisisce ulteriori competenze per continuare a fare il medico. Siamo negli anni 60, lui dice la scuola italiana è una scuola che reitera le differenze di classe, chi già sa, chi è figlio di chi sa, esce e sa ancora di più, e chi è figlio di chi non sa, nella scuola poco impara e rimane dunque a differenza. Questo uomo, Don Milani, autore della lettera professoressa, che qui vi ho semplificato ovviamente, dice la scuola invece deve essere un brico di mobilità sociale, deve aiutare i figli anche delle persone più povere, o comunque deve metterle al centro. Scriverà una lettera bellissima ai cappellani militari. I cappellani militari sono quei preti, esistono ancora oggi, sono sempre di meno, che sono preti dentro l'esercito, spesso sono anche uomini militari. E scrive una lettera nei pieni anni 60 ai cappellani militari, Don Milani, dicendo di fatto che diceranno da Rotterdam, che oggi benedire le armi da guerra, benedire missili, benedire mitragliatori, in un modo di armi nucleari, sono gli anni 60, di bombe atomiche, di bombe all'idrogeno, e andare contro Dio. Oggi chi dice no alla guerra dirà Don Milani ai cappellani, è un profeta di pace ed è un vero cristiano. Oggi benedire la guerra e pensare che la guerra sia uno strumento di Dio è fradire il Vangelo stesso. Dunque Don Milani dicendo ai cappellani militari che i veri profeti sono i ragazzi che rifiutano la guerra, siamo a fine anni 60, che prima del 68, prima della construzione della guerra del Vienna, siamo prima del momento pacifista che da Berkeley, da Los Angeles, dalla California si diffonderà poi in tutto il mondo, siamo in quegli anni e Don Milani alla vigilia del grande momento pacifista globale cosa dice? Dice che il vero profeta di pace e chi dice no alla guerra, non è chi le benedice le armi. E dunque c'è una critica che riprende quella di Erasmo da Rotem. Chiudo perché è suonata la campanella? Per cui non fa meraviglia se hanno spirito marziale coloro che Marte ha generato. Sono quasi diventati dei fedeli di Marte e non più dei fedeli della croce. Sono diventati dei servi del Signore della guerra e non più dei uomini al servizio della pace.